Serietà e professionalità sono i nostri punti di forza. Cristalli Liquidi, leader nel settore della telefonia, servizi vocali, messaggistica e navigazione. Da Cristalli Liquidi troverai un vastissimo assortimento di telefoni cellulari di ultima generazione. Cristalli Liquidi, centro assistenza tecnica Team Wind e in via 20 settembre 9 Castro Villari. Telefono 0981 26 736 per comunicare oltre ogni limite. ... Torna alla vittoria tra le mure amiche la Bioresolve contro la Sensation di Marina Di Gioiosa con un 3 a 2 che poteva essere un 3 a 0 se solo le ragazzine terribili di coach Graziano e Feoli avessero creduto in più nelle loro possibilità. 25-22, 25-22, 25-27, 19-25, 18-16. Questo lo score che ha visto mettere in cassaforte due punti importantissimi per il proseguo del campionato di Serie C. Pronti via e la Bioresolve in vantaggio 2 a 0. Marina Di Gioiosa non crede ai suoi occhi, parliamo sempre della terza in classifica. Precisione e ricezione, grande padronanza in fase di costruzione della giovane palleggiatrice e attacchi chiusi con precisione e potenza sia da posto 4 che dal centro. Nel terzo set ha paura di vincere la Bioresolve, paga la giovane età delle sue atlete e si fa sotto la Sensation che recupera due set alle ragazze castrovillaresi. Poi nel tiebreak sale in cattedra Virginia Ammirati e la Sensation soccombe sotto le bordate della giovane atleta della Bioresolve. Chiude il tiebreak 18-16, la Bioresolve e vince l'incontro casalingo. Due punti meritati, forse qualcosa in più? È stato praticamente un calo di pressione perché potremmo portare a casa benissimo i tre punti con un 3 a 1 e un 3 a 0. però essendo terze in classifica loro ovviamente non volevano perdere contro noi, contro noi che siamo per quart'ultime e poi c'è da dire che noi in casa siamo praticamente una fortezza, siamo fortissime, ci stiamo mettendo di tutto e ci siamo ripromesse di fare un ritorno spettacolare, far parlare di noi perché siamo una Serie C molto giovane e possiamo fare tanto. Dopo questa partita pensate di aver fatto qualche passo avanti? Assolutamente, sicuramente perché il nostro problema fondamentalmente è il carattere, il fatto di non avere esperienza, di non avere la forza, di non avere praticamente il carattere in campo per mettere determinate palle a terra. E invece oggi abbiamo confermato di avere carattere e di poter fare davvero tanto. Quando nel quarto set sul punto a punto hai forzato la battuta che cosa ti ha detto il coach? Eh vabbè ha detto, battendo la presupposto che la mia battuta, la battuta che ho fatto oggi è una battuta che faccio da una settimana e quindi ha detto te lo potevi evitare però se è andata bene tutta la partita te la perdono. Poi infatti alla fine ho battuto saltoflot. Quindi ti ha perdonata? Sì mi ha perdonato e abbiamo regalato la vittoria, penso che mi sono fatta perdonare bene. Grazie a tutti.